Ciao lettrici e lettori bentornati su Miss Fiction Books Io sono Tiffany e oggi torniamo nella rubrica Mai più senza perché sono contenta che vi sia piaciuta la prima puntata Ero molto agitata per questo nuovo format Quindi grazie davvero Oggi parliamo di Capelli Io che sono totalmente Scema Però vabbè Allora oggi vi parlo di 5 prodotti per me essenziali per i capelli Ovvero che nel corso del tempo ho provato a lungo Molto a lungo E che mi hanno salvato la testa Allora come sempre premessa Questi prodotti non sono ovviamente adatti a tutti i tipi di capelli Ne a tutte le teste Come anche per i prodotti per la pelle Bisogna fare attenzione al tipo di capello che si ha Il mio è un capello sottile Fragile E i miei capelli sono secchi Quindi io ho bisogno sia di rinforzarli Che di nutrirli Proprio perché la loro natura tende a seccarli tantissimo E soprattutto io cerco di rinforzarli fin dalla radice E infatti per questo vi parlo proprio del primo prodotto subito Che è la maschera radici di Lush Come vedete siamo quasi arrivati in fondo Io penso di usare radici con costanza da circa 4-5 anni Quindi è davvero una delle mie maschere preferite Anche se io la uso in una maniera veramente poco ortodossa Cioè io la metto sulle radici prima di fare la doccia Che non si fa Però seguite le istruzioni chiaramente Però è una maschera che da un lato stimola La crescita del capello Anche se in maniera ovviamente molto blanda Ma soprattutto rafforza i capelli dalla radice Visto tutti gli estratti e tutte le erbette che ci sono qua dentro Infatti è una maschera con menta, ortica, olio d'oliva, miele Insomma si vede e si sente tra l'altro È una maschera che sa moltissimo di menta e di ortica anche Perché ha un leggerissimo pizzicorino appena la mettete E vi sentirete una sensazione di super fresco Appena l'avete messa in testa Come se avesse messo del dentifricio È stranissimo Però è anche una maschera molto nutriente E si vede perché c'è l'olio eccetera Io la uso davvero da tantissimo tempo Ed è imprescindibile Quanto meno nella mia routine dei capelli Io devo dire che questo è forse il prodotto che uso da più tempo E quindi non tornerai mai indietro Mi piacerebbe che esistesse il formato solido Ma penso sia impossibile ricrearla solida E quindi insomma partiamo da questo È di Lush Roots Ha un prezzo di circa 20 euro A me un barattolino di radici dura circa un paio di mesi Quindi poi dipende anche dalla frequenza del vostro lavaggio dei capelli Io non li lavo così frequentemente Ma li lavo una volta ogni 5 giorni più o meno Perché il mio lavarli meno possibile li rende meno fragili E però ovviamente dipende dal tipo di capelli E dal tipo di cute che avete Perché se vi si sporcano in fretta è impossibile E quindi insomma a me dura abbastanza Quindi è una spesa che affronto volentieri Rimango sempre nell'area del mai più senza E fate finta di non vedere qua che c'è scritto la vena poetica Che in realtà è una crema, una maschera per il viso In realtà questo è come è ridotto il mio shampoo all'argan solido di Lush Questo che ovviamente ora ha un po' d'acqua È usato e ha circa un mese di utilizzo Quindi prima era totalmente piena questa scatolina E si chiama Jason and the Argan Oil Che è il più adatto per me tra quelli che ho provato di Lush Perché non me li appesantisce Ristruttura il capello che tendenzialmente passandogli la piastra E comunque insomma facendogli una serie di maltrattamenti Ha bisogno il mio capello sia di essere ristrutturato che nutrito E Jason and the Argan Oil è una delle mie certezze Ne ho provati davvero diversi di shampoo solidi Perché insomma è molto comodo lo shampoo solido A me dura quasi 4 mesi 3 mesi e mezzo mi dura E quindi oltre che un grande risparmio dal punto di vista economico Perché è vero che costa circa 12 euro da Lush Ma è vero anche che dura 3 mesi in abbondanza E soprattutto perché io rimetto tutti i nuovi shampoo in questo scatolino Che ormai ho da anni Come vedete c'è anche un po' di calcare sopra E quindi chiaramente è molto pratico, molto utile e inquina un po' meno In questo caso questo è il mio preferito Poi ne ho provati altri È ottimo quello di Lamazuna per i capelli secchi Cacao e vaniglia Però ad esempio questo secondo me è più nutriente E mi trovo meglio Però dipende davvero sempre da quello che esigono i vostri capelli Quindi il mio consiglio è sempre Passate a uno shampoo solido E quello in generale è un'ottima pratica Perché inquinate meno e producete meno plastica Allo stesso tempo però cercate quello adatto per voi Ci sono capelli che richiedono ancora più nutrimento rispetto a me E ci sono altri tipi di shampoo solido adatti Ci sono capelli grassi che ovviamente hanno bisogno di un altro tipo di shampoo Insomma fate un po' i vostri test Provateli E insomma dopo vedrete che sarà difficile tornare a uno shampoo normale Vi sentirete strani Anche perché con questo davvero lo aprite Ogni volta che fate la doccia sui capelli bagnati Lo passate per 3-4 strisciate E vi ritrovate la schiuma E quindi poi potete procedere al lavaggio tranquillamente E funziona esattamente nello stesso modo che per uno shampoo diciamo normale E io ho i capelli molto lunghi Quindi vi dico a me dura quasi 4 mesi Quindi non dovete usarne una quantità esagerata Per produrre quel tipo di schiuma che vi dà la sensazione di lavaggio Se invece non amate molto la schiuma Basta avere i capelli molto più idratati Metterne leggermente meno E distribuirli di più Insomma spero di essere stata utile in questo box informazione Passi invece ai rimedi della nonna Ovvero io ho una grande passione per fare delle maschere Fai da te Che però non significa utilizzare lo yogurt, il miele eccetera Anche se sono chiaramente cose molto nutrienti Però spesso non penetrano dentro il capello Un po' come l'olio di cocco Io l'uso spesso Però è quasi più un protettivo Che una vera e propria maschera Perché non penetra dentro il cuoio capelluto E dentro il singolo capello Detto ciò però tornando ai rimedi della nonna Detto ciò io ho una grande passione Che si chiama fitofilo Che fa le mie erbette preferite Tra cui in primis il fieno greco Ma poi ne uso altre Come vedete c'è il birangai Il brami Insomma ce ne sono altre che io uso con costanze Che mescolo anche tra di loro Stando attenta però alle varie indicazioni Queste maschere costeranno 4 euro l'una E con ogni busta Io faccio circa 3 Se ne uso molto Una singola Se no addirittura 4 o 5 Impacchi Sono maschere che sono delle erbette Hanno un profumo abbastanza pungente E insomma se non amate particolarmente Questo tipo di profumazione Si sente ad esempio il fieno greco Ovviamente sa di fieno greco Sa di pieno E quindi insomma Ha un odore particolare Comunque insomma Con queste mie erbette Io mi faccio la mia Il mio impacchino Il fieno greco richiede 24 ore di idratazione Quindi lo si versa dentro una ciotolina Si aggiunge l'acqua semitiepida o calda Da lì dipende un po' da quelle che sono le vostre esigenze E create la pappina Poi bisogna lasciarla a riposare Fino al giorno dopo Dove si aggiunge altra acqua Io di solito oltre all'acqua Aggiungo anche le altre erbette E un po' di olio di cocco Perché mi aiuta sia un po' da tutire il profumo Perché è molto forte E non a tutti piace E soprattutto mi aiuta anche A renderla un pelo più idratante E ogni maschera Ogni componente Ogni erbette ovviamente Ha delle proprietà diverse Questo è un prodotto che io acquisto su Ecco Verde E vi dico Sarà tanti anni Almeno 3-4 Che io le uso con grande costanza È il mio impacco proprio settimanale Io le uso andandoci a dormire In modo che così Tutta la notte ho l'impacco E mi sveglio il giorno Dopo Altre volte Se ho più fretta La faccio prima di fare la doccia Tenendoli in posa Almeno un'oretta Ecco E io non so Le amo e le adoro E davvero il fieno greco Restituisce una Un'idratazione E una lucentezza al capello Che in tante altre maschere Più chimiche Eccetera eccetera Non riescono assolutamente a fare E quindi insomma Le mie erbette Sono una mia grande passione Ovviamente io uso sempre quelle di Phytophilos Perché le trovo tutte insieme Così quando di solito Compro la crema idratante O compro un altro prodotto Su Ecco Verde Dopo ho la possibilità Di fare un unico ordine E di avere una scorta Ma se le trovo In erboristeria Se le trovo In altri luoghi Chiaramente Passo anche ad altro tipo di marca Però davvero Phytophilos Mia preferita Per ora Perché ha molta scelta E anche dei prezzi Abbastanza contenuti Con insomma Questo formato Che alla fine È totalmente in carta Quindi poi voi lo buttate Nella carta E non avete nemmeno Prodotto della plastica Altra maschera Che invece davvero Mi ha salvata la vita Si chiama Nutritive B&T Che è questa qua A me l'ha data La parrucchiera Silvia che saluto tantissimo Di SR Spa E allora Me l'ha data Perché i miei capelli Erano ancora Poco nutriti Rispetto a quanto Dovevo fare Come vedete Questa è la quantità Che io sto usando Da dicembre Quindi se ne usa Davvero pochissima E nutre davvero tantissimo È veramente Una manna dal cielo Questo lo uso in doccia Lo lascio in posa Cinque minuti Almeno Ogni volta Ogni volta Che faccio la doccia E davvero i capelli Da dicembre Mi sono migliorati Moltissimo Stanno crescendo meglio E sono più forti Perché Sono più nutriti E questa Questa marca Che si chiama Ete Che è parte Del gruppo Emsibeth È una marca Che tende ad utilizzare Pochi Pochissimi Siliconi Tendenzialmente Tendenzialmente di origine Naturale Non del tutto Non al 100% Però ha una componente Molto bassa E sono tendenzialmente Volatili Quindi non vi Appesantiscono il capello Ma lo nutrono seriamente E infatti E infatti io Noto moltissimo La differenza È l'ultimo prodotto Davvero Che ho scoperto Quest'anno Però sono davvero Tanti mesi Che lo uso E davvero Non vedo l'ora Di ricomprarlo Perché è un ottimo Ottimo prodotto E questa linea È davvero ottima E quindi insomma Io ve lo suggerisco Molto Sarà un po' complesso Trovarlo Probabilmente Però se magari Trovate qualche parrucchiere Nella vostra zona Che li rivende O riuscite a trovare Qualcuno Tra l'altro Vi lascio magari Giù sotto Il contatto Di Silvia Che vi può Dare qualche dritta Sicuramente Questo è un prodotto Che io Recomprerò E continuerò Ad utilizzare Passiamo All'ultimo preferito Cioè È veramente Un prodotto Che uso Da tantissimo Tempo E che Vi faccio vedere Nel senso che Questo è Lo status Dell'ultima boccetta Che ho comprato E ho già preso Quella nuova Perché era in sconto Nei giorni scorsi Quindi mi sono Già messa avanti Coi lavori Questo olio Si chiama Willberry È di Mulac Allora Questa poveretta È martoriatissima È un olio Abbastanza denso Dal sapore di Berries Come dice anche Il nome Willberry Ten Peraltro È un olio Siero per capelli Sia protettivo Che nutritivo Oltre che lucidante Che è l'effetto Ovviamente Che hanno tantissimi oli Io lo uso Con costanza Da almeno due anni Perché A parte che Questa boccetta Vi dura almeno Con lavaggi Insomma Tutte le varie cose Almeno 6-7 mesi Perché comunque A meno che voi Non vi mettiate Quintali di olio Sui capelli Con una quantità giusta Una quantità limitata Vi dura tantissimo A meno che non lo usiate Anche come impacco Per i capelli Che è possibile usarlo Come impacco A me più di una volta È capitato Quando non avevo Magari altro Ho fatto l'impacco Con questo Ed è fantastico Ha una serie di siliconi Dentro Ve lo premetto Non è 100% naturale Ha una serie di siliconi Però molto volatili Quindi facilmente Davvero Eliminabili Che non vi appesantiscono Assolutamente il capello Ma la sensazione Che vi dà Il profumo Che ha questo olio È fantastico Quindi Moolac è davvero Una dei miei brand Preferiti in Italia Soprattutto per quanto Riguarda ovviamente Il make up Perché davvero La linea di make up Secondo me È una delle più performanti Migliori in Italia Allo stesso tempo Però questo olio Nello specifico Però Willberry È veramente Una cosa fantastica Quindi Se voi cercate Un olio Che soprattutto Lucidi I capelli Dopo che avete Non so O stirato O fatto i boccoli O ve li siete asciugati Semplicemente Se volete un olio Per tenerli un attimo Un po' più lucidi Un po' più brillanti E anche Insomma Proteggerli Da ciò che Insomma Sono gli agenti esterni Lo smog Eccetera Questo è veramente L'olio migliore Che abbia mai provato E ne ho provati tanti Ve lo giuro E quindi Insomma Questo Come vedete È molto leggero Quindi non vi sembra Di avere addosso Dell'olio Pesante Insomma Che vi crea L'effetto unto Che chiaramente Non piace A nessuno E quindi Insomma Questo è L'ultimo prodotto Che io mi sento Tantissimo Di consigliarvi Niente Io anche oggi Penso di essere Arrivata in fondo Spero che I consigli Che vi ho dato Insomma Questi prodotti Che vi ho dato Davvero Li sto usando Da tantissimo tempo Quello che sto usando Da meno tempo Lo uso da sei mesi Quindi Ho abbastanza certezza Che questi prodotti Siano efficaci E comunque Insomma Abbiano un'ottima resa Sui capelli È chiaro che Il mio capello È un tipo di capello secco Sfibrato Tendenzialmente Perché mi piastro Molto spesso Tipo sempre Perché io non sono Liscia Ma sono riccia Falsa Poi riccia Mossa Ormai che non ha Neanche più Una definizione Il mio riccio Rispetto a quando Ero piccola Io ve li consiglio Ovviamente Con convinzione Soprattutto Se avete Un tipo di capello Che è Secco Se avete Un tipo di capello Che ha bisogno Di una spinta Nutritiva E quindi Insomma Ha bisogno Di essere Arricchito E nutrito E allo stesso tempo Se avete i capelli Un po' sfibrati Perché magari Ci passate la piastra Perché magari Usate Il ferro Per fare i boccoli Insomma Tante cose Insomma Possono portare Anche a sfibrarli E ovviamente Questi consigli Valgono Soprattutto Per quel tipo Di capello Se avete Capelli grassi Chiaramente Tutte queste cose Vi vanno Ad appesantire Magari L'Uilberry No Perché L'Uilberry È molto leggero Quindi lo potete Usare Tranquillamente Gli altri Insomma Prendeteci Le misure Mentre Dei vari Impacchini Delle varie Erbette Ci sono Tantissimi Prodotti Diversi E adatti Ad ogni tipo Di capello Niente Direi che Oggi Questa mia rubrica Frivolina Un po' più Leggerina Un po' così Si è conclusa Insomma Sono contenta Che vi sia passata La prima puntata Spero sia utile Anche questa seconda Fatemelo sapere Mi raccomando Perché ci tengo Molto Visto che È qualcosa di strano Su questi canali E quindi Insomma Direi che Per oggi Siamo arrivati In fondo E insomma Fatemi sapere Cosa ne pensate Per tutto il resto Direi che noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao